Chaviation cocktail che è nato prima del proibizionismo questo cocktail veniva fatto praticamente così gin maraschino succo di limone zucchero poi hanno sostituito lo zucchero perché magari col maraschino iniziava a diventare troppo dolce e l'hanno sostituito con un liquore alla violetta proviamo a farlo ovviamente come lo facciamo il nostro fridiamo la coppetta come sempre è sempre giusto informarsi sui cocktail ecc anche se poi si fa una versione diversa l'importante è che siamo consapevoli quello che facciamo perché comunque adesso che fai luogo che trovi opposto che trovi alla fine qua oristano si beve in una maniera come magari a Cagliari in un'altra quindi questo cocktail io lo faccio così un gin london dry ovviamente ho scelto il tanker di ten perché è uno dei miei preferiti maraschino succo di limone stessa quantità del maraschino e ovviamente un bar spoon di liquore alla violetta che risulta praticamente poco meno di mezzo centilitro ecco qua c'è una versione del gerry thomas che loro lo fanno con la lavanda e vi dirò che è molto buono proprio quella nota floreale che dà quel tocco a questo cocktail il suo qui a ghiaccio ovviamente usando questo non c'è bisogno del double strain perché c'è già la doppia ecco qua poi se avete un fiorellino da metterci sopra tutto quello che volete io purtroppo per voi non metto a guarnizione ecco a voi a viescia grazie 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 grazie